Ti registro lo stesso. Buongiorno, oggi abbiamo presentato un progetto di tutela delle dune che sono parte integrante della nostra linea di costa. Una linea di costa chiaramente caratterizzata da circa 7 km di spiaggia antropizzata ma soprattutto oggi abbiamo evidenziato invece 7 km di spiaggia non antropizzata ovvero sia dove le dune sia sabbiose ma anche la ghiaia contraddistinguono questi luoghi. Luoghi che tentiamo in tutto e per tutto di tutelare e di mantenere affinché le specie sia floreali che animali possano continuare a riprodursi in modo tipico caratterizzando proprio questi luoghi. Questo diciamo che è il progetto che abbiamo in sinergia con lo studio di Atomea proprio per cercare sia di valorizzarlo questi luoghi ma soprattutto anche di diffonderlo e quindi di farlo diventare una delle attrattive della nostra costa ovvero sia valorizzare una peculiarità puntuale che insiste su questi luoghi.